Nella bella struttura del tiro a segno nazionale in via del tratturo a Sulmona si è svolta la quarta gara regionale federale valevole per gare federali specialità P10 tiro con la pistola 10 metri C10 tiro con la carabina 10 metri molti partecipanti che sono stati impegnati per due giornate il 26 e il 27 di aprile ai primi posti delle varie sezioni di gara si sono classificati per la carabina 10 metri reginaldi massimiliano alessio della sezione di teramo e quintili matteo della sezione di chieti per la pistola 10 metri di luca carmine di pescara e i anni andrea della sezione aquilana con nella lei è il presidente regionale del tirassegno ci sono molti giovani che si avvicinano anzi devo dire dei giovanissimi diciamo che da noi possono arrivare da dieci anni per l'aria compressa poi a 14 anni si possono avvicinare a fuoco solo con la 022 però perché è un calibro accessibile per quel tipo di età e noi andiamo in cerca di questi giovani anzi fra poco avremo un incontro nelle scuole per cercare di far conoscere un pochettino il tirassegno perché diciamo che il tirassegno è anche tra i sport minori poco conosciuti noi faremo in modo che il tirassegno diventi uno sport conosciuto dalla stragrande maggioranza della popolazione il poligono di tiro di trattura è una bella struttura sportiva immersa nel verde da visitare e da utilizzare tutti possono fare attività sportiva dai 10 ai 90 anni l'attività della tiro assegno sia con pistola e con carabina sia a fuoco che ad aria compressa rappresenta un esercizio valido per il mantenimento a lungo di un perfetto equilibrio fisio psichico della persona il sodalizio con oltre 600 iscritti e forse uno dei più importanti e più numerosi del comprensorio peligno quindi ci sono le linee di tiro ad aria compressa e sei a fuoco possono partecipare anche persone diversamente abili spesso con notevole successo anche di livello mondiale che uno sport aperto a tutti senza limiti di età e senza limiti di difficoltà specialmente il tirassegno di summona ha fatto tanto per me e penso per parecchi disabili che possono venire a provare con le barriere architettoniche è uno dei volumi pochi in italia veramente attrezzati per disabili e a me mi ha dato tanto sia come vita che come sport posso dire veramente a qualcuno che c'ha bisogno che disabile qualcosa di venire a provare perché uno sport bello e non è uno sport stressante anzi uno sport rilassante soddisfatti i concorrenti di cui alcuno sono di livello nazionale guobadia derrick come ti sei avvicinato al tirassegno e perché qual è stata l'occasione ho avuto un amico che faceva tirassegno e così scherzando mi ha detto perché non viene a provare da lì è iniziata una passione all'inizio così dilettantistica per arrivare a essere un grande agonista l'anno scorso ho avuto discreti risultati sono arrivato primo di categoria nella pistola libera a 50 metri l'anno scorso ho avuto